Vi son passato accanto, vi son passato vicino, era il 16 marzo, le 9.05 del mattino, il messaggero tra le mani, la foto dei guantoni, di Zoff che salva la Juve in Coppa dei Campioni. Chissà se mi avete visto, prima di fare il resto, prima dell'acquato, il sequestro di stato. Una ragazza che piangeva, l'asfalto che friggeva, bolliva la storia, tremava l'Italia. Quando è partito il fuoco, mi sembra sia durato poco, frenata tamponamento. Raffiche, polvere, spavento, e d'improvviso il silenzio. Bossoli, puzza di piombo, quattro morti e un moribondo, radio e tv di tutto il mondo. E cominciava la solita ambiguità della politica. La solitudine di una sposa, l'impotenza della chiesa. Le assurdità investigative, nessuna idea né prospettive. Solo maldestri tentativi, di fare accordi coi cattivi. Carabinieri pallidi, rogna, e segretari pavidi. Un uomo con il suo martirio, disbatto dentro. La finta burletta di un falsario. Sarà il KCP o la CIA, ma ancora c'è una strana scia. Che parte da via Fani, e arriva fino a via Caetani. E io davanti a quei morti, ai loro poveri corpi. Io non sapevo cosa fare, mi avvicinai a guardare. Mia madre venne a cercarmi, ma non riuscì a vedermi. Se non mi ha visto lei, figuriamoci voi. Se non mi ha visto lei, figuriamoci voi. Grazie a tutti.